Sei entrata e si è trasformata, come durante la battaglia. Sono davvero grato che sia un giorno di pioggia. In pochi avranno visto la torre cambiare. Cosa hai scoperto? Ade è ancora una minaccia. È nell'Ovest proibito. E io devo seguirlo. Capisco. Ma non sarà facile. C'è un motivo se lo chiamano proibito. Una tribù di feroci guerrieri lo controlla. Ah. I Tenakt. Bene. Viscano che si varchi il confine. La padella l'abbraccia. Detto ciò, grazie al re sole Avad abbiamo stabilito una fragile tregua. E la prossima ambasciata avrà luogo tra qualche giorno al confine tra le terre. Partecipando all'incontro e avendo la sua benedizione. Ci uniamo a loro, allora. I Tenakt potrebbero farti passare. Anziché attaccarti e ucciderti a vista. Proprio quello che mi serve. Altri cacciatori. Ah, il re sole. Eccolo. Il re sole è quello che ha una cotta per Aloy, se ricordo bene. Aloy! Felice di vederti. Sei partita così in fretta. Non siamo riusciti a ringraziarti. Adesso le diamo la lancia? Possiamo? Itamen, taci. È vero, abbiamo dei doni. Di solito organizziamo le cerimonie d'omaggio al palazzo. Ma pensavo per essere un'occasione. dietro la testa. Portate i doni. Avada, sei davvero molto gentile, però... Utid. Vanessa. Presto. Diamoglieli prima che ci scappi di nuovo. Oh, vediamo. Qualcosa di potente, dai. No, proprio. Una nuova lancia? Ma che è? Una corona? Che è? Provalo. Ma che ne è? Una corona, sì. È bellissima. A nome di tutti i cittadini del dominio. Ti fa molto intelligente. Accetta questi simboli di eterna gratitudine. Sicuramente, Iole. Spero. Probabilmente. Chi lo sa. Vedremo. Sì, diciamo che se potranno risparmiare la coroncina, per adesso. Ah, potranno risparmiare. L'arma va bene. Vieni a parlarmi quando puoi partire. L'arma va bene. Ah, coroncina. È un po' chiccio. Molto meglio così. Una statua in mio onore. Modifica la lancia. Ecco. Vediamo un attimo con lui. Sì, sì. Ricoperto d'oro e di pietre. Brutto proprio. Ma ero piuttosto sicuro che non la avresti apprezzata. Avevi ragione. Mi spiace, Avad. È bello vederti. Ma non posso restare. Ciao, Matteo. Grazie di essere passato. Ancora grazie per il bit che mi hai regalato. Mi hai donato, grazie. Matteo è veramente gentilissimo. Quando vuoi, sai dove trovarmi. Ma c'è di più in ballo. Per sistemare tutto, devo andare a Ovest. In terra, Tenakt. Per il sole, Tenakt. Forse Marad te l'ha già detto, ma... Dopo anni di ostilità, abbiamo negoziato una tregua. Sperando porti la pace. La prossima ambasciata si terrà a breve. Anni di ostilità, sentiamo. Quando dici anni di ostilità, intendi i giorni rossi? Ah, sì. È il mio argomento preferito. Non chiederei se non fosse necessario. Vogliamo sapere. Sai, mio padre razziò le tribù di confine. Ah, 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 ah. Oseram, Banuk e Nora soffrirono molto. Si opposero duramente. Ma mai quanto fecero i Tenakt. Chissà come mai. Ma salirono il fronte occidentale a luce arida, cacciandoci dalle loro terre. Hanno fatto bene. Dire di nuovo le trattative è stata... dura. Ci credo. Ovvio. Che cosa rende l'ambasciata tanto speciale? Il merito è dell'ospite. Proprio come oggi. La delegazione incontrerà i Tenakt fuori da luce arida. Daremo loro doni per un prigioniero. Fasciav, uno dei nostri soldati. Soldati? Cioè predoni? No. Non in questo caso. Fasciav è mio cugino. Non c'entra con Elise e i suoi. Ha partecipato alla spedizione a Ovest per contenere certi eccessi. Ma l'hanno catturato. Durante l'eroica difesa di un avamposto alle sabbie di Cinabro. E ora è prigioniero. Sì, apprezzalo e apprezza. Solo che... Non può restare perché ha sempre la sua missione. Ma secondo me è pura Loi. Fasciav. Vediamo un po'. Tuo cugino Fasciav. Quanto è stato prigioniero dei Tenakt? Dieci anni? Cinque anni. Cinque. Ho sbagliato di cinque anni. Gli emissari Tenakt giurano che sta bene ma chissà. Sono noti per la loro crudeltà. Secondo me è passato dalla parte dei Tenakt. Beh, lo so che ho fatto. E hanno fatto il lavaggio del cervello. Con le torture. Se lo vedessi prima di me. Digli che lo aspetto a Meridiana. Qualcosa mi puzza. Se lo vedrò, lo verò. Itamen sembra felice. Sì. Tu l'hai salvato. Ah no, ma felice veramente. La sua felicità è merito tuo. Se tira un po' di vento con quella cosa c'è dietro il collo. Vola via Itamen. È un bene se erediterà la corona. La corona non andrà al tuo primo genito? Sì, beh. Prima dovrei innanzitutto sposarmi. Eh, 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 eh. E chiese queste sorrisette. Ma vado a propormi pretendenti. Eh. Ma alla fine cerco sempre di... ...di trasformarle in persone che non sono. Eh, aloi. Comunque sia, io non ho mai aspirato al trono e non voglio restarci per sempre. Vuole procreare con te. Quando Itamen sarà cresciuto, mi farò da parte. Avad. Tolta la corona. Sporchaccio. Potrei finalmente girare il mondo. Chi lo sa. Magari accompagnare te in qualche avventura. Scusate se mi scappa. La fai sembrare facile. Ecco appunto. Non solo girare il mondo. Ecco appunto. Vabbè. Parliamo la possibile pace. Lasciamo stare i raptus di Avad. Come avete convinto i Tenakt a trattare dopo la guerra? Proprio come ho convinto te. Con dei regali. Oh, ma cos'è un po' effettivo. I Tenakt amano i gioielli. Amano i metalli, le spezie e le reliquie ottenute in guerra. Ogni volta che ci incontravamo, i doni allentavano la tensione. La prossima ambasciata è la più importante. Un segnale forte che anche i Tenakt cercano una pace stabile. Ok, è ora che vado. Ora dovrai andare. Un momento a noi. Devo chiederti una cosa. Cosa? Non penso ad altro da quando sei partita. A che pensi? Questo non è il momento. È l'unico che ho. Tu vai e vieni e io non posso sapere quando ti rivedrò. Quindi cosa vorresti? Non voglio fermarti, né ostacolarti, ma devo sapere. Quando finirai la missione, resterai a Meridiana. Per un po'. Potremmo passare del tempo insieme e provare a conoscerci meglio. Magari un po' più approfonditamente. Scegli. Allora, stiamo scherzando. Bella prospettiva. Non è il momento. Ce lo teniamo per bene. Spero di poter rivedere Meridiana, Avad. E te? Se andiamo siamo un buon amico. Arruffiamolo. Questa missione è la mia vita. Non penso ad altro. Devo restare concentrata. Ce lo siamo tenuti bene. In quanto al futuro non riesco a immaginarlo. Non so da dove iniziare. Beh, se volessi cominciare da Meridiana, sappi che sarai sempre più che benvenuta qui. Vedi? Pensa alla tua missione. Pregherò per il tuo successo. Oggi siamo arruffianati. Attenderò il tuo ritorno. Ok, ho creato un potenziamento. Potenziamento lancia. Attrezzatura speciale raro. Ok. Installa l'override principale e un modulo che permette di accumulare e rilasciare energia cinetica durante i combattimenti. Utilizzarlo richiede l'abilità esplosione risonante. Già creato. Uno. Bene. Override principale installato. Con una novità, accumulare e rilasciare energia. Un... Risonatore. In battaglia aiuterà. Sì, sì, segni le bracci. Vabbè. È il momento? O vuoi parlare ancora un po' con i tuoi amici? Ah, è ora che vada. È meglio che vada. Se devo dirigermi a Ovest, mi servirà un foglio di via da parte dei Tenakt, come dicevi. Dove si terrà di preciso questa ambasciata? Oltre il timore. Il canyon ha il confine occidentale del dominio. Alla sua estremità troverai la fortezza di luce arida. L'incontro avrà luogo all'interno delle sue mura. A piedi è una lunga marcia. 15 giorni circa. In sella saranno un paio di giorni, allora. Forse sarebbe meglio dormire qui stanotte. E partire domani. Ma certo. Cosa fa? Faccio io. Ah, stava sbadigliando. Pensava che si era fatto male che si era tagliato un dito, visto che aveva il coltello in mano. Invece stava sbadigliando. Intermentato, così. invece stava sbadigliando. pessima a dir poco lo sono mantenuto perché sto a parlare di me stesso secondo me hai anche una bella voce ah ti ringrazio Ferideso ti ringrazio diciamo nel parlato sì però se mi senti cantare cambieresti idea toglieresti il follower mi segnaleresti ecco diciamo in questo modo se devo parlare ben venga quello sì si può fare oh però tagliamo come fa però un filmato ok ora inizia il vero e proprio gioco ora inizia il vero gioco con le vere missioni tutte le missioni secondarie attivate quindi da ora in poi possiamo fare molte missioni secondarie che ci daranno XP oggetti e armi utili compreso il viaggio rapido mi sa però più avanti non ora devo pure vedere come si fa ma hai visto nessuno andare in giro su uno di quelli quella porta a luce arida ah beh sì di solito ma non oggi e non ora perché e perché mai dalle beh il timore tutta la valle è infestata dalle macchine eccola dobbiamo fare pulizia prevedo dato non è dubito ma ho l'ordine di non attivarla si è fatta bene la nera non la farà arrabbiare allora se ci sono parecchie macchine dobbiamo stare attento agli scontri e alle armi che utilizziamo altrimenti rischiamo di farci seriamente male ho puntato la lancia alla gola dai non ti preoccupare ora nei combattimenti dobbiamo prestare un po' più di attenzione perché potrei ricevere molto più danno forse il fumo viene da qualcosa che le macchine hanno distrutto grosse cattive e numerose si chiamano scavazzanna la cosa strana è che non sono native del timore sono comparse all'improvviso non si possono uccidere cacciatori ce n'è ma nessuno vuole mettersi contro Ulvund l'autoproclamato capo di aspra catena idea sua fermare i lavori oh beh io sono di passaggio l'ambasciata mi aspetta ma dovevi dirmelo quella non si terrà tanto presto di che cosa stai parlando sentito ecco la tua risposta quello quello che è un sacerdote carcia ho fatto scendere ieri un'oretta prima che arrivassero quelle macchine ma dove pare che c'ero sulla schiena una persona molto importante ma che è quello laggiù che voce che ha incontro a luce arida lui dovrebbe essere il moderatore è il megafono incorporato nella laringe quello vabbè ma sai che quello con sta cosa in testa è strano non so perché vabbè niente oh feredisto in bocca al lupo per domani per domani mi fai sapere come è andata dai un abbraccio e in bocca al lupo vi rifiutate di trasportare me ma non questa cosa questa donna nora questa selvaggia scansati canaglia posso prenderla a schiaffi ora la salvatrice di meridiana posso prenderla a schiaffi beh questo mitiga l'insulto direi sono qui per l'ambasciata a luce arida anche tu a quale un destro sinistro non ti permetti che la valle è infestata ed ecco dunque Araman dichiarò i sacerdoti del sole preziosi grande fere te lo doveva dare permesso Iole è la moderatrice no prender la maschina schiaffi ed ecco all'alba grande Loi ti amo Loi ti amo ti amo bene ho sentito che i lavori sono fermi come miglioro la mia roba scommetto che il fabbro di aspracatena ti farà usare il suo banco per gli scavazzanna ti consiglio di creare le frecce acide scavazzanna usare contro i loro servatoi per abbatterli grazie vado a dire a Erend di tornare ehi dove vuoi andare in cima al crinale col cane no 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 mi spiace gli ordini sono tassativi niente passeggiari fino al fischio no esatto via di manovella ma perché già Ruf ti andrebbe di scortare lo studioso ad aspracatena e aspettarmi lì certamente troverò Erend e lo aiuterò ad aprire la strada dopodiché basta scuse luce arida ambasciata se tale è la volontà del sole lo sarà la messa a cuccia in poche parole grazie